Filippo Baldi al debutto nel campionato di Serie A1, per te quest'anno sappiamo un anno molto particolare, tralasciamo ovviamente, forse però questo un po' ha influito anche sui risultati che non sono stati magari all'altezza del finale della passata stagione? Beh sicuramente ha inciso parecchio, è stata una nata molto difficile per vari motivi, ovviamente tutti sanno il più grosso quale è stato, però da un mese a questa parte ho ritrovato molto stimolo, voglia di allenarmi, voglia di rimettermi a posto come ero a fine dell'anno scorso e meglio, quindi l'importante è questo, come ho già detto ho voglia di crescere ancora tanto e l'anno prossimo sarà fondamentale. Sappiamo che hai cambiato anche allenatore recentemente, no? Sì sì, ho iniziato questa settimana con Francesco Cina, sempre a Palermo, da dove ho iniziato tre anni fa con Aldino, abbiamo interrotto il nostro rapporto, insomma capita, ci può stare, lo ringrazierò per quello che abbiamo fatto, però ora devo concentrarmi su quello che farò con il mio nuovo allenatore. Senti, la competizione qui a squadra ti ha sempre portato anche fortuna, nel senso che forse in questo ambiente, Selva Alta, ambiente familiare, trovi stimoli per fare bene anche nei tornei. Sì, sono cresciuto qua, siamo amici con Ale, con Joe da sempre, mi hanno visto nascere e ogni anno mi diverto molto a giocare con loro, a fare trasferte, a giocare in casa, il pubblico è sempre molto presente, insomma è bello e divertente, mi fa staccare anche la testa da quelli che sono i tornei per poi riprendere a girare da solo o comunque con il mio allenatore, insomma mi dà molta energia e sono contento di poterlo fare anche quest'anno. Hai molti punti in scadenza nel finale di stagione, anche perché la prossima settimana c'è la Germania dove avevi vinto l'anno scorso il tuo primo trofeo, sei preoccupato di questo? No, zero, zero perché ribadisco, è stato un anno difficile, mi manca pochissimo per raggiudicarmi l'Australia a gennaio, quindi il mio obiettivo principale è quello e ancora prima viene il fatto che devo lavorare tanto e rimettermi a posto, rimettermi a posto fisicamente principalmente e poi mentalmente ora credo di aver recuperato tanto e quindi l'anno prossimo sarà l'anno dove voglio spingere tanto e dove vorrò stare bene dall'inizio alla fine. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.